Ciao a tutti, sono Otto André, gioco nel Lugano ormai la quarta stagione che sono qua, quindi sono arrivato qua più o meno tre anni fa, mi piace tantissimo questa società per tantissime ragioni, perché comunque storicamente il Lugano è una grandissima squadra in Swistera, anche al libero europeo, ha fatto tante belle cose, quindi è un onore di portare questa malietta, questa malia. Vorrei anche ringraziare i tifosi che ci hanno seguito all'inizio della stagione e vi chiedo di venire ancora allo stadio a sostenerci, perché comunque per tutti è un po' più bello giocare davanti al pubblico, sia per il pubblico che per noi giocatori, ci aiuterà sicuramente a ottenere delle vittorie.